Ma non è solo una tutela, credo che sia anche un discorso di salvaguardare quello che poi è il rapporto dei genitori nei confronti dei figli, quindi la responsabilità. Io quando dico sempre le pari opportunità non possono essere intese soltanto per le donne, diciamo, in questo senso. Cioè, occorre dare pari opportunità anche agli uomini, perché poi io conosco tantissimi uomini che vorrebbero contribuire alla crescita dei propri figli. Le voglio dire però una cosa, che io ho depositato nella scorsa legislatura una proposta di legge molto simile. All'epoca con la collega Alessia Mosca, sempre il PD, ne proponevamo cinque giorni per chiederneci, ce l'hanno bocciata. Noi la mettiamo in legge di stabilità. Ecco, infatti, ci ricorda, esatto, mettendola in legge di stabilità, ce lo ricorda l'onorevole Issa. Questa volta pare che nella legge di stabilità abbiano accettato la nostra proposta di legge che riguarda lo smart working, ossia il lavoro da casa per le donne, che dovrebbe facilitare. Però, quella è un'altra storia, no? No, no, è un'altra cosa. Assolutamente. Vediamo gli aggiornamenti a proposito di legge di stabilità, perché... Posso solo dire una cosa? Il problema in Italia, in un secondo, è che noi abbiamo un sistema di welfare che non garantisce la tutela e la promozione della famiglia, della maternità e ovviamente dell'occupazione femminile. Lì dobbiamo centrare i nostri obiettivi, perché c'è il tema dell'accesso al lavoro delle donne e quindi della maternità, ma c'è anche il tema dei servizi, dei tempi di vita e dei tempi di lavoro, di come sono organizzate le nostre città. Cioè, sembra che esista tutto un sistema che rende difficile per le donne non solo entrare in lavoro, ma anche per le famiglie avere dei figli.